Osio sotto, un piccolo paese della Bergamasca alle porte di Milano. Dunque sì, vengo da un grande paese che si chiama Italia. Italia è il paese della pizza, della pasta, del riso, dei ravioli eccetera. Ma non solo, avendo circa 7.000 chilometri di coste, possiamo stupirvi con piatti a base di pesce unici. E per non parlare poi della carne, sulle colline fiorentine, potrete assaggiare la mitica carne chianina, unica al mondo. Insomma, un paese dove l'aria, il clima e la natura la fanno da padrone. L'Advant Food Company è orgogliosa di presentarvi Annabella, un luogo dove poter gustare e fare propri gli autentici sapori della cucina italiana. Sono Nicola Offredi. Fin da piccolo ho avuto una passione sconfinata per la cucina italiana. Io non ritengo che fare lo chef sia un lavoro. Penso che condividere con il mondo i sapori della tradizione italiana sia la nostra missione. Insieme all'Advanced Food Company ho deciso di portare in Arabia Saudita la magia della vera cucina italiana. Dal nostro ristorante nel Level Mall di Riyadh offriamo esperienze gastronomiche senza pari. Perché? Perché vi meritate il meglio. Venite a trovarci, sperimentate la cucina classica italiana e grazie a prati preparati con vero amore. Annabella, cucina veramente italiana.